Con Baye Nianga partendo da questo derby, che partita è stata, come è andata, cosa avete provato e che sensazioni avete avuto anche in campo? No, è stato da parte di tutte le due squadre una bella partita perché anche da parte di tifosi abbiamo visto che c'era tanti cori, c'era una bella ambienza però è dispiaciuto che alla fine abbiamo preso questo gol al 92esimo, però abbiamo tanta margine di miglioramenti quindi dobbiamo servire di questa partita per migliorare. Oggi quanto rammarico è rimasto di quel gol al 92esimo perché è chiaro nell'immediato dispiace, da fastidio, rivedendo adesso, ripensando alla partita a freddo, siete comunque contenti della prestazione o il pareggio alla fine lascia insoddisfatti? No, siamo anche soddisfatti perché anche il merito dell'Inter è che ha fatto una bella gara, dobbiamo dire, perché sono stati bravi a prestare alti, a fare la loro partita poi ci dispiace prendere il gol così alla fine, negli ultimi minuti, però oggi abbiamo una bella classifica, abbiamo comunque preso un punto contro una bella squadra quindi siamo già in testa all'Empoli. Parlavi dei tifosi, hai messo un post proprio di ringraziamento anche ai tifosi, oltre che i complimenti a Suso, quello te lo chiedo dopo. Quanto uno stadio così riesce a darvi qualcosa in più quando poi scendete in campo? Io, se posso dire, i tifosi sono stati fantastici perché ci hanno aiutato dal primo secondo all'ultimo e penso che questi siano veramente i più belli tifosi che ci sono in Italia perché l'hanno dimostrato anche in una partita difficile e abbiamo avuto dei momenti difficili e sono sempre stati vicini, quindi li ringrazio e spero che lo stadio sarà più volte pieno. Ti chiedo anche quello che c'è stato prima della partita, cioè la coreografia dei tifosi per il presidente Berlusconi, l'avete vista? Vi ha emozionato anche a voi? Sì, il presidente lo merita perché la storia del Milan è anche sua, quindi era meritata e prima di una partita così era doppio più emozionante, quindi è stato bello. Mi complimenti a Suso, intanto ti chiedo, è tornato a casa effettivamente a piedi come aveva promesso o è tornato con voi se lo sai? E poi quanto ti sta sorprendendo anche nelle prestazioni che sta facendo? Già, prima è tornato in macchina perché pioveva tanto, quindi non sarà mai arrivato. No, Suso è un giocatore che dal giorno che è arrivato abbiamo subito visto che aveva tante qualità. Siamo giovani, quindi bisogna solo essere continuo e avere la fiducia che ti permette di dimostrare tutte le tue qualità e oggi penso che Suso attraversa un momento molto bene e spero che ci aiuta la squadra, come l'ha fatto domenica, a cercare di vincere le partite. Comai, ormai sei un titolare praticamente inamovibile di questa squadra, in quel ruolo, da alla sinistra. Quanto ti senti cresciuto in quella posizione e quanto questo ti aiuta a magari esprimere anche al meglio le tue possibilità, quindi di andare più vicino alla porta e di provare anche la conclusione qualche volta? No, ho già titolare inamovibile, non lo dirò così, sono un momento dove gioco con continuità, però devo continuare a avere delle prestazioni positive, se voglio continuare a giocare perché siamo un gruppo di 26 e se oggi siamo 26 al Milan vuol dire che siamo 26 a potere sperare di giocare, quindi io devo sempre dare delle risposte al mister per cercare di continuare a giocare ogni domenica. Con l'aiuto di mister Caccia, quanto ti sta dando, quanto ti è vicino? Gli avevi promesso un gol di testa dopo la dedica del gol con il Chievo, ci sei andato vicino, quanto manca ancora? No, con Nicolo stiamo lavorando molto bene, abbiamo un rapporto molto speciale che ci crede molto in me e io cerco anche di lavorare e di dargli le risposte alle domeniche del lavoro che facciamo la settimana. L'ho promesso un gol di testa e quel gol di testa lo farò. Il gol di testa arriverà e ti chiedo anche, abbiamo visto ad esempio nella partita con il Pescara, Jack Bonaventura, provare quella punizione particolare sotto la barriera. Ti sta allenando, ti alleni, lo vediamo qualche volta sulle punizioni, qualche volta ci hai anche provato. È anche quello un passaggio che vuoi fare nella tua carriera? È nelle tue possibilità tecniche essere pericoloso anche da lì? Sì, perché sappiamo che i calci impiazzati sbloccano qualche partita, come l'abbiamo visto con Jack e con il Pescara, quindi cerco anche di lavorare su questo aspetto per completarmi al meglio, anche se non faccio gol nel gioco, sbloccare una partita su punizione è bello, come ho detto prima, come l'ha fatto Jack, quindi spero di migliorare ancora tanto e perché non iniziare a fare dei gol delle punizioni. Quanto è maturato, quanto è cresciuto l'uomo? No, avendo esperienza, io come ho sempre detto, si cresce perché ho avuto dei momenti della vita che hanno fatto che oggi sono potuto crescere, ho capito delle cose, quindi non ho finito di crescere perché sono ancora molto giovane e credo che devo ancora imparare dai più anziani e ascoltare i consigli per sempre più diventare un grande calciatore e un grande uomo. Giovane in un Milan di giovani, avete la sensazione che state cominciando a costruire un blocco importante che può durare tanti anni e che può riportare il Milan dove gli compete? Sì, dipenderà solo da noi, siamo in un buon momento, siamo giovani, però abbiamo anche dei giocatori più esperti, Sì, quindi siamo un bel misto e dobbiamo continuare a ascoltare già i più anziani perché loro hanno più esperienza, ci aiutano molto e credo che se lavoriamo bene, se stiamo umili possiamo fare delle belle cose. L'ultima cosa, Ambagli, te la chiedo sulla prossima partita. La gara con l'Empoli, l'importanza sicuramente di continuare la corsa e quanto sono difficili queste partite con squadre magari con una classifica non buona, quindi squadre che magari si chiudono dove non si trovano tanti spazi, soprattutto per un giocatore come te che negli spazi si esalta. Io secondo me l'Empoli non merita la classifica, l'Empoli ci avevano già giocato l'anno scorso, è una squadra molto organizzata che gioca con noi insieme, sono molto bravi quindi noi dobbiamo andare lì, come abbiamo affrontato una partita con la Juve e con l'Inter perché se andiamo lì pensando che sono bassi alla classifica e che potremmo vincere facilmente, sbagliamo, quindi dobbiamo andare lì convinto, però con umilità e fare quello che dobbiamo fare e portare i tre punti.